. Anticipazioni Questo Nostro Amore 80 seconda e terza puntata, la scelta di Anna. A distanza di quattro anni dalla seconda stagione arriva su Rai 1 cancelletto Questo Nostro Amore 80, la terza serie della fiction con protagonisti Anna Valle e Neri Marco Re. . La serie è stato uno dei prodotti di punta della programmazione di Rai 1 di questi ultimi anni, ottenendo dei risultati d'ascolto decisamente molto importanti in prime time con una media di oltre 5 milioni di spettatori e uno share che è andato oltre il 20. . Un ritorno decisamente molto atteso dal pubblico che attende con trepidazione la messa in onda di queste nuove puntate in prima visione assoluta. . 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 Thriller Questo nostro amore 80 Seconda e terza puntata Cosa succederà nel corso della seconda e terza puntata della fiction in onda il 3 e 10 aprile su Rai 1? Anna quando viene a sapere che Vittorio intende tornare a vivere a Torino decide di abbandonare la città e si trasferisce negli Stati Uniti con Ettore. Intanto Domenico sogna di poter entrare a lavorare in una tv privata. Fortunato, invece, conosce l'affascinante Catrerina mentre l'ingegner Marchisio subisce un attentato. Le anticipazioni di questo nostro amore 80, inoltre, rivelano che Benedetta decide di partire per Milano con il fotografo Fabrizio, lasciando a casa marito e figli. Cancelletto questo nostro amore 80 Anticipazioni Cancelletto questo nostro amore 80 Trama Grazie per la prossima